I temi fondamentalmente sono quelli di una crescita comune, di prospettive ulteriori per la pace, soprattutto c'è un'intesa comune sul fatto che riteniamo inaccettabile quanto è accaduto recentemente in Libano. Auspichiamo ovviamente che la diplomazia prenda sopravvento e si possa arrivare alla pace e speriamo veramente che non ci sia un'escalation, questo è un sentire comune da entrambi i parlamenti, è un sentire comune da entrambi le popolazioni e insomma siamo qui per ribadirlo.